Dopo ben tre anni di stop, sabato 10 giugno torna al circuito ciclistico Marconi la quinta edizione di Colora la Vita, l'evento organizzato da Avis e Avis Giovani Fano insieme a diverse associazioni del territorio, con l'obiettivo di richiamare i valori della sensibilizzazione al dono e fare solidarietà. Alle ore 16 ci sarà il ritrovo con partenza alle ore 17, nasce per promuovere la donazione di sangue e di plasma e non solo, perché con noi ci sarà anche ADMO, quindi associazione donatore di midollo osseo e i ragazzi dai 18 ai 35 anni avranno la possibilità di tipizzarsi, ossia diventare potenziali donatori di midollo osseo, inoltre è a scopo benefico perché il ricavato di questa manifestazione verrà devoluto ad onfalos, autismo e famiglie. È un evento aperto a tutti, quindi dai bambini alle famiglie agli adulti, è un momento per stare insieme, divertirsi e lanciarsi del colore. Ci sarà un percorso previsto di circa 4 chilometri, è un circuito, quindi saranno due giri di pista e durante il percorso ci saranno dei nostri volontari e anche delle altre associazioni che ci daranno una mano a lanciarvi il colore e quindi vi aspettiamo numerosi. Le polveri colorate sono atossiche e lavabili, un talco farmaceutico e verranno lanciate in grande quantità sia all'inizio che durante la corsa, poi non mancherà musica, intrattenimento e un riscaldamento pre-evento. Vorrei ringraziare tutti i nostri collaboratori perché ci sarà una parte anche di animazione per prepararvi alla corsa camminata con un riscaldamento preventivo e ringraziare anche tutte le associazioni che ci danno una mano in questo bellissimo evento perché senza la forza dei volontari colora la vita, non sarebbe la stessa. Il tema di questa edizione è random, ovvero a caso, infatti i partecipanti potranno indossare qualsiasi abbigliamento a loro piacimento. L'appuntamento sarà a plastic free e quindi sarà possibile portare da casa una borraccia in quanto saranno allestiti dei rubinetti di acqua potabile. Il costo del biglietto all'intero è di 15 euro dove è previsto un kit con uno zainetto colorato, la maglietta, gli occhiali da sole, un impermeabile e quattro bustine di colore per potervi divertire insieme ai vostri amici. Il costo del biglietto invece per quanto riguarda i ragazzi dai 6 agli 11 anni è di 10 euro, sempre con lo stesso kit. I bambini sotto i 6 anni sono gratuiti e hanno la maglietta dell'evento con due bustine di colore. La possibilità di acquistare il biglietto è online su live ticket.it oppure in sede Avis, saranno presenti tutta questa settimana sia la mattina che il pomeriggio dei nostri volontari per poter prendere il biglietto, acquistare il biglietto tramite contanti, quindi pagamento in sede Avis Fano che si trova in via San Francesco 53, quindi in centro. E sabato 10 giugno vi aspettiamo numerosi perché è un evento partecipato colorato che è per i giovani e con i giovani e in più ci si diverte facendo del bene. Grazie! 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 Grazie!